Veloce che c'ho l'appuntamento di 10 minuti. Ma sei calmo. Sono tutto ferro. Vieni, vieni, vieni. Sì, però. Oh, ma che cos'hai oggi? Che cos'ho io oggi? Lo conoscerò così in freddo? Sì, eh? Il fratello. Ma chi cazzo? Chi è stamme, amore? Oddio, è lui. Ehm, nasconditi. È l'arrabio veloce, dai. Ma vedete un picco. Margarita, non si può fare l'arrabio. Di 10 minuti, ciao, 10 minuti. Questo che cazzo mo dove va a venire? Ah, hai sconticato la giacca, amore? Ok, buon lavoro. Dicevi? Voglio uscire. Vuoi uscire un cazzo? Guardi, ma tu mi hai fatto caccare sotto. Cioè, tu mi hai fatto... Cioè, questo mo' entrare ma facevo un culo. Cioè, tu mi avrei l'infarto, un blocco intestinale. Vai. Vai. Non si attrizza più. Madonna me. Meno male che ho fatto il tema ad andarmene. Se no, se venivi una cazzo mi facevo un culo. Già ho visto che oggi è una giornata da... Ma porca miseria i vigili. Giorno. Giorno. Pavorisca documenti, prego. Che ho fatto? Che hai fatto? Hai visto a quanto stavi andando? 50, 60. 50, 60 o cazzo? Eh dai, no, signor vince, per favore, che già era giornata da merda oggi? Che è stato con una che mi ha mandato un po' comia, mi acchiappava pure i ragazzi, mi facevo il culo. Eh, per questo andavo un po'... A me che mi ha fatto? Pure a me è stata ragionata da merda oggi, hai capito o no? No, 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 non ti alterare. Tu sei incazzato. Ti sei incazzato, ok. Ti do il numero di Nadia così, eh? E poi ti do una caccia di Lumenciana. Eh, si può fare. Annaccia la misera. È la seconda volta che te lo dico. Ma era questi documenti. Mamma, sei un cazzo però, non me la fai la mu- Dove stanno? Ma ti faccio vedere la mu- Finalmente mi hai rato questi documenti. Quasi quasi non la facessi manca molto, ti chiami pure come a me. E tieni pure la giacca a me. Ma che è questi documenti? Ma che ca- Mamma mia, non cazzo sta su. Ma com'è possibile? Ma questo sei tu. Ma che è la granda- Ma vaffan-gulamma! Guarda cazzo di bici che stanno! Proprio il cornuzzo da prendere! E che ca- Ciao!